Upsa, tutti, 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 miei cari upsini e upsine, come, 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 come state? Spero bene, dai. Oggi sono qui per toccarvi un po' la faccia, per fare appunto tanti, tanti visual trigger che spero riescano a farvi addormentare. Come sapete queste giornate sono veramente, veramente calde e quindi aiuto, però spero comunque di riuscire a rilassarti, se mi vedete è un po' più scuro perché sono riuscito un po' ad abbronzarmi in piscina questa settimana, quindi, ok. Ma non parliamo di questo. Indossa subito un paio di cuffie o auricolari, stenditi sul tuo letto e cerca di chiudere gli occhi, va bene? Va bene? Quindi sarà molto semplice questo video. Intanto inizio tastando, 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 tastando un po' il tuo video, facendo anche un massaggio, un massaggio, un massaggio, un massaggio ai lati così. Così, 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 così esattamente così, un po' di carezze, 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 perfetto, veramente perfetto Adesso continuerò appunto con le carezze Però vorrei applicarti sul viso Questa specie di oio Che però è fatto apposta per l'estate Perché dopo qualche secondo Inizierai proprio a sentirlo fresco sul tuo viso Proprio fresco fresco Sì, è miracoloso veramente Quindi prendo un po' di gocce Te le applico prima direttamente sul viso Quindi tap, 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 tap E ne applico anche una o due goccette Anche sulle mie mani E adesso inizio a spalmare Sulla fronte Sotto, sul mento Ok, adesso di nuovo massaggio Massaggio, massaggio, massaggio Massaggio su una guancia Su una tempia Massaggio sull'altra guancia Sull'altra tempia Perfetto Perfetto Uno, ma Uno, due, tre Uno, due, tre Tap, 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 tap Tap, tap, tap Tap, 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 tap Ok Ok, adesso vado a rimuovere con questo cotone l'olio che ti ho messo sul viso, perché va rimosso dopo un po', quindi parto dal basso, parto dal mento a rimuovere. Rimuovere, rimuovere, una guancia, rimuovo, 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 salgo, rimuovo, rimuovo, la stessa cosa la faccio dall'altro lato, quindi rimuovo, 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 e la fronte faccio, tac, 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 ok? Dovrei aver rimosso tutto, lo rimuovo anche dalle mie mani, dalle mie mani. Il restante, non ti preoccupare, lo assorbirà la pelle. E quindi questo qua l'abbiamo fatto. Senti però come adesso la pelle è più liscia, cioè secondo me è spettacolare questo qua, come olio. Ok, dai, lo posiamo. Aiuto, ok? Adesso continuo un po' a darti qualche carezza, qualche carezza, qualche carezza, qualche carezza, qualche carezza. Soffio un vento freddo, appunto che tu magari possa riuscire a smettere di sudare perché fa veramente, veramente tanto, tanto caldo. E sì, lo vedo che qua sulle tempie stai gocciolando un po', ma mi sarò un mazzoretto. E anche qua sul collo, sul collo, quindi alza leggermente la testa. Perfetto. Eh, ma non ci puoi fare nulla. È così, è così, è così. Perfetto. Adesso farò, aiuto, un'altra cosetta. Ho qui, questa crema a mani. E me ne metterò un po' per farti poi un ultimo massaggio, ecco. Attenzione che questa straborda sempre un po'. Eccola. Ne ho messa a punto anche fin troppa, però vabbè, per due mani. Adesso come minimo ungerò tutto quanto. Però vabbè, serve comunque prendersi cura delle mani. Quindi lo lasciamo un po' asciugare. Intanto spalmo sul tuo viso tutti i contorni del tuo viso, quindi. Ancora il collo, bene, bene. Il collo, la fronte. La fronte. Sì, qua. Poi qua, la fronte. Chiedi gli occhi. Diamo una passatina anche agli occhi. Il naso, il naso, il naso, il naso. Ok. La richiudo. Quindi adesso non mi resta che farti un ultimo massaccino per poi salutarci. qui. Quindi soltanto gruppo. Gruppo, 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 gruppo. Gruppo, gruppo. Gruppo, 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 gruppo. Segui il mio dito. Segui la botta del mio dito. Segui la botta del mio dito. perfetto dai non mi resta quindi che dirti iscriviti al canale se sei nuovo per entrare a far parte della OOPS community e diventare un opsina se sei un maschietto altrimenti un opsina se sei una femminuccia poi è importantissimo lasciare un bel like se il video ti è piaciuto per supportarmi per spingermi così ad essere visto da più persone e magari a commentare se hai un po' di tempo fammi sapere appunto cosa ne pensi di questo video il video di oggi finisce qua ma se tu vuoi restare ancora insieme a me io ti lascio qua il mio video precedente una mia playlist se tu vuoi restare qua sotto il tasto per andare sul mio canale se hai voglia sperciare un po' tra i video e vedere se ce n'è qualcuno che ti piace io ti raccomando di vedere il nuovo video trailer del canale che è uscito qualche settimana fa perché ci ho messo veramente tanto impegno a farlo e niente è questo qui io non mi resta quindi che darti la buonanotte con un grandissimo bacio proprio qua e e niente dai buonanotte 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 buonanotte